oh bucaioli oggi specialità di serravalle di serravalle pistoiesse vedete la beuta questa è la beuta numero 2 detta anche la bomba vediamo come si va a preparare questa beuta con le dita vedete con i coditi di unti bisunti in questa cucina piena di colate gli suglia schizzava per tutto un infradito mi raccomando sogno so si raccatti il ghiaccio e si ributta no la buttava nel cestino nel sudico no io l'avrei rimesso dentro sono sincero una sciacquata e rizzati vedete il ghiaccio gli è preso con l'acqua proprio della prana gli è andato nella prana gli ha messo gli ha fatto ghiaccia all'acqua gli ha fatti ghiaccio vedete io sandali in questo cucinotto a norma di genesi ma rimestane con il caffè freddo caffè dell'euro spinne da 2 euro ma mai che a sgabarattolino i caffè gli ha schizzato mezza viti ogni cosa notare sui cucinotto i famosi taralli pistoiesi gli hanno taralli proprio tipici di pistoia ma vediamo ci fanno una sega cantuccini per dire noi ci sai il tarallo pistoiese i belis vedete i belis va messo diciamo dentro questo barattolino da conserva lo zucchero che gli va a aumentare la gradazione e dell'altro nocino vedete che bomba ragazzi che spettacolarità questo tu la bei tu lo bei dopo scena dopo serata ti fai da caffè e ammazza due o tre in una diciamo via andiamo mangio e bevi ma adesso andiamo a vedere diciamo molto importante che fa sicuramente molto importante il rimestaggio vedete il rimestaggio lo scegheraggio lo scegheraggio vediamo vedete ecco attenzione è quando entriamo di più a tempo di una tarantella interventi rientrì 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 ria e la mai alla vita ma a maracci cccocco 3 ci vette sui comò sui comò che spettacolarità gli ha fatto la cremina quel colino con lo scolino anzi si va a ripassagnare o se vu ci avete una carza usata possibilmente copia di lerci dentro meglio ancora ben più buono il ghiaccio diciamo si dà ai cane e la beuta gli è pronta vedete che bomba ragazzi che spettacolarità solamente sta tazzina guardarla ti dà ti dà il capo gli ignomi è tutto un programma sta beuta allora andiamo all'imbicchieraggio invece dell'impiattaggio oggi ci sa l'imbicchieraggio neanche ma si sanno una sega gli chef sanno una sega gli chef e io adesso andrò all'assaggio per voi bucaioli direttamente questa tuttora bella tuttora la catti fino ai 2022 os ma che scherzi